Che fine ha fatto Keyforge? Quali sono stati gli sviluppi del nostro amato gioco dei mazzi unici al mondo da quando c'è stato il cambio di guardia? E che dinamiche innovative ha portato al suo stile di gioco? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Per chi mi segue dagli albori sa che l'Arconte del Crogiolo è nato trattando unicamente contenuti riguardanti Keyforge, lo unique deck game ideato e sviluppato da Richard Garfield, il padre di tutti i trading car game, che a proposito ha avuto l'immenso onore di ospitare qui sul canale. Troverete la sua intervista qui. Infatti le terminologie Arconte e Crogiolo sono per l'appunto sempre molto presenti sia in ambito competitivo, uno dei formati principali del gioco si chiama per l'appunto Arconte, e a tema lore. Il Crogiolo è il pianeta al centro dell'universo dove le vicissitudini dei protagonisti riportati sulle carte e nelle storie si svolgono. È da molto che non tratto un contenuto su questo living car game ed ogni volta che esce il discorso anche nel mentre sto affrontando una partita a Magic o Pokémon o addirittura One Piece, la domanda è sempre la stessa. Ma che fine ha fatto Keyforge? Ebbene per tutti i detrattori che credono che questo titolo sia affondato a picco lasciando solamente dei bei ricordi a rimembrare i vecchi fasti, ci sarà da restare delusi. In realtà si sono sempre forgiate chiavi da quando il gioco è nato, anche durante la pandemia e l'aiatus, fino ad oggi. Ma come Arconte fino ad oggi? Il gioco dalle mie parti non esiste più, è morto. E così è in molte zone della penisola, ma non sottovalutate il potere degli architetti, perché da quando il testimone è passato dalla FFG alla Ghost Galaxy, Pedersen e squadra a seguito hanno dato un bel boost al gioco, ma parleremo fra poco di quali sono stati gli sviluppi in questi anni. Perciò nel video di oggi, grazie anche al supporto di Cristiano Mastroianni, che ringrazio, ripercorreremo passo passo ogni step che il gioco di mazzi unici al mondo ha compiuto, partendo dal 2023 e passando per l'odierno 2024, giungendo infine ai progetti in uscita per l'anno prossimo. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da Zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo, ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia alle prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In Colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca Colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme i vari step che ha compiuto Keyforge in questi anni. Andiamo a dargli un'occhiata. Che fine ha fatto Keyforge? Con le avventure multigiocatore e il crogiolo in continua espansione, la Ghost Galaxy ha ufficializzato la pubblicazione di due set all'anno. Questo 2024 infatti ha visto lo scorso marzo l'uscita del settimo set Green Reminders o Tetri Ricordi, con l'introduzione della nuova casa, Gestoid, e le nuove meccaniche sinergiche che vedono le pile degli scarti prendere parte attiva alle dinamiche del gioco. Mentre il prossimo settembre uscirà l'ottavo set Amber Sky o Cieli d'Ambra, con l'arrivo degli Skyborne, fazione di aviopirati, bestie mitiche che solcheranno i cieli del pianeta al centro dell'universo, icone bonus di potenziamento aggiuntive, parole chiave innovative e nuove interazioni con i colori delle chiavi. Per chi si ricorda del Barone Rosso, questa sarà l'espansione che lo vedrà arrivare ufficialmente. Ma non è finita qui. Infatti questi ultimi due set maggiori saranno accompagnati da degli special nel corso dell'anno. Con l'arrivo del Vaultour vi sarà il Vaultour Set 2024, creato da un pool di carte e case scelte, come fatto nel Master Vault 2023. In più, durante la campagna Game Found hanno rivelato una prima novità che piacerà a tutti gli appassionati della mutazione di massa. Sarà infatti presente More Mutation, un remake con carte scelte da Mass Mutation. In questo vi saranno maggiori carte legacy e soprattutto nuove gigantiche per le case che non avevano le carte combinate in questione nel vecchio set di MM, assegnate allora unicamente a Selvaggi, Repubblica Sauriana e Logos. La parte bella è che sarà un set legale nei tornei. La seconda grande sorpresa invece arriva dallo special set Token of Change, anche questo legale nei tornei che introdurrà una nuova casa, il Redemption. Questa fazione sarà costituita da cavalieri e monaci sanctum corrotti e mutati dal potere degli Ember oscuri mentre cercavano di chiudere il Dark Ember Vault. Questo set prenderà le meccaniche dei Winds of Change, primo set di gestione GG nel 2023, introducendo tutte le case che non avevano Token, compresi gli stessi Redemption, alle già sette presenti in venti di scambio. Quindi oltre ai Sanctum, gli Insondabili, la Federazione Stellare, gli Equidon, i Marziani, la Repubblica Sauriana e i Brobnar, saranno presenti anche i Logos, le Ombre, i Dis, i Gestoid, gli Skyborne, i Selvaggi e per l'appunto anche i Redemption, tutti con i loro nuovissimi e personali token. Inoltre nel mentre vi saranno Voltour e nazionali organizzati nei punti più disparati della Terra, dalla casa madre hanno già annunciato misteriosi piani per il 2025, spoilerando il prossimo set in arrivo in primavera noto come Prophecy Vision, che vedrà l'arrivo di innovative meccaniche durante i match e la probabile comparsa di una nuova temibilissima fazione, in Izzac. Qui di seguito, come in descrizione, vi lascerò un recap generale di tutte le varie pubblicazioni ed eventi svolti per Keyforge sotto la guida della Ghost Galaxy. In tutto questo ci sarà anche da citare i Saviors of Keyforge, gli Awakening Deck e gli Store Championship 2024. Si tratta di unici che presentano un'estetica diversa in edizione limitata, sempre presenti alle mie spalle nei deckbox rosso e blu targati Game Genic, e molto altro ancora come far diventare il formato Sildar Conte ufficiale nei tornei, aggiornare la Restricted List delle carte Alliance e creare ben due nuove avventure multiplayer, Gormengeist House, collocato nel set Green Reminder, e Great Hunt, ambientato nei cieli d'ambra di Ember Skies. Quindi non direi proprio, viste tutte le evoluzioni effettuate nel tempo, che il progetto Keyforge sia proprio fermo. Tutt'altro, calcolando anche che nuove idee vengono proposte di continuo dalla Galaxy alla Community, come ad esempio l'ultima trovata che vede una presa di posizione in una lotta interna che si sta scatenando tra le fila dell'Impero Marziano, che vede gli anziani e la ribellione scontrarsi in una guerra civile senza precedenti. Vi lascerò come sempre in descrizione ogni link utile, così da poter vedere con i vostri occhi quel che il crogiolo avrà in servo per voi. Concludendo, di cose da fare, la casa madre ne ha molte, e di idee ancora di più. Basterà solamente aspettare che vengano realizzate una ad una e sponsorizzate a dovere, così da vedere, perché no, un ritorno in grande stile di uno dei giochi di carte più innovativi e straordinari che la storia abbia mai visto. Chissà, solo gli architetti potranno darci una risposta. E voi conoscevate il progresso del titolo ideato da Richard Garfield? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.